e questo c'è una faccia stupendo e questo c'è un po' di potato Buongiorno, la mia piccola Buongiorno, la piccola Ami, posso alzarmi? Posso alzarmi? Posso alzarmi, Ami? Andrò dall'altra parte Buongiorno 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 A presto! questo è un teodorante solito c'è casino probabilmente esagerato un pochino col blush ops si tolgerà qui ho anche del mascara vabbè faccio un po' di due outfit del giorno allora ho questa camicetta penso sia Penny Black non ne sono sicurissima con tutti questi buah queste macchioline stupende e mi piace tantissimo come sta anche su di me e poi ho questi pantaloni che in realtà dovrebbero essere un po' più avvitati di ripassarmi meglio ma voglio qualcosa di comodo ecco e questa cernina fa un solo stupendo ok ora devo andare ho l'appuntamento con la psicoterapeuta quindi se faccio il tempo vi registro qualche clip non lì ovviamente ma prima adesso scappo perché tardi non lì ovviamente terapia fatta adesso è mezzogiorno e penso sentirete un po' il traffico penso andrò dai cinesi a cercare delle cose per il canale alla veloce mi do mezz'oretta vediamo eccoci qua eccoci qua cosa c'era forse forse è andato via cosa c'era cosa c'era amico cosa c'era intanto chiami vaga vi faccio vedere i primi 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 fiori che stanno uscendo nel giardino sono fiori dei miei suoceri io non c'entro niente vorrei tanto avere questo talento questa pazienza questa passione ma non ce l'ho questi sono incredibili perché io impazzisco per questo contrasto viola giallo incredibile quanto è bello è veramente stupendo cosa c'è voi le coccolone ma lei vede che do attenzione a una cosa si ingelotisce le deve impazzire infatti questi fiori poverini non avevano vita lunga con abbi e qui ha tutto piantato degli altri fiori direi si quelli sicuramente e qui è già cresciuto qualcosa questo bellissimo ami e anche qui c'è qualcosina il giardino dei miei socieri è stupendo il problema è ami che rompe qui ci sono dei fiori stupendi guardate che meraviglia anche le sfumature sui petali dietro sono ancora all'inizio ovviamente speriamo che ami non li distrugga mi sentirei molto in colpa qui c'è già qualcosina che inizia a fiorire vediamo se è scurata la fuoco qui comunque questo penso sia una marena non ne sono sicurissima e questa già un po' sta fiorando qui c'è la vigna che è ancora un po' e qui invece siamo ancora un pochino indietro qui ci siamo quasi 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 sta quasi fiorando tutti qui guardate che meraviglia e non mi trova fioriscano questi hanno due tre anni gli alberi quindi sono ancora piccolini però diventranno stupendi cosa vuoi te cosa vuoi te Monella capisco ti piace il sole? sì che ti piace prendere il sole certo ma chi non piace? insalata con aceto balsamico di alta qualità mi raccomando sempre che sono i più buoni poi sto scaldando due fette di pane e una cottoletta vegetale perché sono veramente tanto di fretta e ho tempo di cucinarmi qualcosa quindi questo è il mio pranzo ho fatto una cosa non è durata tanto in realtà è durata una mezz'oretta su una cosa che vedrete presto perché sono molto emozionata e sono venuta con quella che si è messa così non so perché e ora mi faccio patate ora ora mi faccio il cappuccino 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 non so se sentiate le voci in sottofondo poi magari per darvi la buonanotte anzi non faccio un po' adesso faccio un po' di cappuccino cappuccino and movements staccino non so se sentiate le urla che che ci sono insomma se non posso non sentiate le urla che stanno facendo quindi capite perché io normalmente non posso registrare i video non ho lì decenti vabbè comunque puf 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 adesso devo mettermi a editare il video per stasera cioè sono lì tre quasi tre e mezzo non ho ancora editato proprio mi faccio un cappuccino e mi scrivo mi faccio il link di tutte le cose che devo fare perché ho la mente molto ho la mente molto confusa perché ho tante piccole cose da fare rispondere a mail controllare questo controllare quell'altro girare questo eccetera eccetera e devo anche mettere a posto la cucina e quindi cosa volevo dire niente ah però prima adesso vi faccio vedere cosa ho comprato dai cinesi ho speso un botto di soldi perché non mi sono accorta che certi fiori costavano una follia però adesso vi faccio vedere su comunque cose che userò per il canale soprattutto vabbè vi faccio vedere ok il latte che ho provato oggi è la prima volta che lo provo quindi vediamo se mi piacerà è questo del isola io l'ho preso al negozio sfuso e io ho detto vabbè se lì vuol dire che sarà diciamo il più sostenibile possibile la prossima volta li chiedono come fanno a smaltire questi pack perché li butto nel differenziato ma penso ci sia un'opzione migliore sperando sperando che non si sentano troppo 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 le urla ho comprato questi fiori qui tutti questi da mettere nel vaso per le decorazioni di tre video che mi piacciono delle sempre diverse anche magari abbinate infatti vedete gli altri fiori viola che metterò insieme a questi e questi quando lo sfionano invece è un po' più caldo un po' più chiaro e poi ho preso questa perché mi serviva per un video in un nome che si faccia quindi non ha senso spenderci troppi soldi e poi anche questo sempre per lo stesso video che non so quando ce ne ero però già che ero lì personale e poi ho preso questi e se che non mi fa non sono stupendo e poi Grazie a tutti. 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 Salutiamo Ami. Ciao amore della mamma. E poi ceno, ceno dopo, ho fatto un merendo ma non ve l'ho filmato. Ciao amore della mamma. Ciao, 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 viziata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene. Ho fatto bene perché ho fatto bene perché ho fatto bene perché ho fatto una zuppa che non so cosa ci fosse di mezzo marcio, non era tanto buono. molto insipida, ma non è stato il mio lavoro, quindi va bene così. buona, buon часico. Buon�, buonanotte, buonanotte. 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 Buonanotte, buonanotte, buonanotte. un bacione e vi spero